E' giorno di vigilia per il Foggia che domani pomeriggio con inizio alle 16.15 sfiderà il Brindisi allo Zaccheria. Ultimissime prove per mister Cudini che ha ancora diversi dubbi da sciogliere circa all'11 da mandare in campo. Molto dipenderà dal completo recupero dei calciatori fermi ai box nelle ultime settimane che oltre ad orientare le scelte indirizzeranno anche il modulo. L'allenatore del Foggia in questa prima fase di stagione ha dimostrato che non ha sistemi di gioco imprescindibili. Con facilità passa dalla difesa 4 a quella 3 a seconda degli uomini a disposizione e delle caratteristiche dell'avversario. L'eventuale pieno recupero di Garattoni e Rizzo potrebbe spingere il tecnico a tornare sulla strada del 3-5-2 per meglio sfruttare la propensione offensiva dei due quinti, soprattutto il primo col vizio del gol. Da verificare anche quelle che saranno le scelte in prima linea dove l'unico che sembra certo del posto è Tonin, già segno tre volte nelle prime sette giornate. Il tecnico sceglierà come solito fare solo poche ore prima del secondo derby di fila. Ieri intanto è partita la prevendita dei tagliandi con divieto di acquisizione degli stessi ai residenti nella provincia di Brindisi. Sugli spalti dello Zaccheria domani pomeriggio sono attesi 7.000 spettatori.